Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di PDE Social Club. Questa sera, insieme ad Adelphi, presentiamo il nuovo libro di Emanuele Carrer, Yoga. Che dire, sembra molto facile pensare a un libro in termini di autobiografia. Cosa c'è di più semplice che raccontare la propria vita e raccontare le proprie sensazioni? Che è quello che apparentemente, così facilmente, fa Emanuele Carrer in questo nuovo libro, il suo più autobiografico. Ma quando a discutere di questo libro viene chiamato un altro scrittore, Marco Missiroli, le cose si fanno decisamente più dense, più ricche, più complicate. Non vedo l'ora di sentire Emanuele Carrer incrociare il fioretto con Marco Missiroli, quindi mi taccio e lascio la parola ai due autori. Buona serata a tutti. Buongiorno, buonasera. Ciao Emanuele Carrer. Buongiorno Marco. Sono contento di festeggiare questo libro dirompente, che è Yoga, che ha un titolo molto carreriano, devo dire. Emanuele Carrer poteva scegliere tanti titoli in questo libro, Espirazione, Espiazione. Poteva scegliere io, come prima persona singolare, ho scelto il titolo più dirompente, che è Yoga, perché non è un libro sullo yoga, è un libro attraverso lo yoga. E prima di raccontare questa opera che tiene insieme tutte le opere di Carrer, dobbiamo assolutamente fare una mappa di quella che è, diciamo, la costellazione di Emanuele Carrer, che non è solo uno scrittore della prima persona singolare, ma è lo scrittore della prima persona singolare in tutte le sue forme. Allora, Emanuele, ho cercato, nel corso delle mie letture nei tuoi confronti, di trovare quello che è un nesso su quello che è la conduzione della tua struttura sentimentale, cioè di come sei quando scrivi, di quello che scrivi, di ogni volta che vai a prendere l'inferno di quando scrivi. E ho preso le opere che l'hanno raccontato attraverso la prima persona singolare. Quindi, se noi vediamo quella che è tutto il tuo mondo di letteratura di prima persona singolare, iniziamo dall'avversario, dove l'avversario è Jean-Claude Romain, che è un assassino. Poi passiamo a come un romanzo russo, dove l'avversario sono le radici della propria famiglia, i demoni. Poi passiamo vite che non sono la mia, dove l'avversario non è solamente uno tsunami o la possibilità di una separazione, ma è la possibilità della morte negli altri, che sfiora te stesso. Poi andiamo a Limonov, dove l'avversario è una canaglia, che ha passato il Novecento fingendosi di essere ciò che non è, essendo ciò che è veramente. E anche qui le proprie radici. Poi siamo arrivati al regno, dove uno che era stato accusato da Dio di essere un persecutore viene poi folgorato da Dio stesso. E poi arriviamo a yoga. Yoga non ha un complemento oggetto, non ha un cadavere su cui tu ti scagli per svuotarti, ma a te stesso. Non c'è più Jean-Claude Romain, non c'è più Limonov, non c'è più un apostolo, non c'è più uno tsunami e la vita degli altri. C'è solo la tua vita attraverso la tua vita. Quindi yoga contiene tutte le tue opere, secondo me. Sei d'accordo che è un grande mondo che raccoglie tutti i tuoi mondi? En fait, c'est le... Tu as cité ce livre qui s'appelait Un roman russo, Una novella russa. En fait, c'est le deuxième livre vraiment autobiographique que je fais dans les autres livres, dans les livres que tu as cités. Il s'agit de... Bien sûr, je suis tout à fait très présent comme narrateur et on peut même dire parfois un peu envahissant. Mais celui-là, comme un roman russo, c'est vraiment un livre autobiographique. Et il se trouve que, aussi, comme un roman russo, c'est un livre qui prend en charge une période de crise, une période chaotique, une période de changement de cycle, avec ce trait commun, cette situation un peu particulière, que c'est un livre qui est d'abord parti dans une direction qui voulait être quelque chose, que je me représentais de façon peut-être un peu... à la fois un peu floue et un peu présomptueuse, mais enfin, que je me représentais. Et c'est devenu totalement autre chose. C'est-à-dire qu'à l'origine, je pensais que c'était un livre plutôt serein, agréable sur le yoga. Et puis, c'est devenu un livre beaucoup moins serein et agréable. Mais j'espère, j'espère touchant et humain. Et j'espère que c'est un livre dans lequel, même si c'est mon expérience personnelle, particulière, singulière, j'espère que c'est une expérience dans laquelle les lecteurs, ou du moins certains d'entre eux, pourront se retrouver, pourront retrouver leur propre expérience. Et il n'y a pas besoin de faire du yoga pour ça. Si, en réalité, tu stesso parlavi di Romanzo Russo, et c'est donc le second livre vraiment autobiographique, après Romanzo Russo. Negli autres livres, c'est-à-dire que je suis présente, e forse anche troppo invadente en certains cas, mais sont vraiment le yoga et du roman Jean père du roman Jean Rourus, qui sont vraiment deux livres de caractère autobiographique. Et aussi le roman Jean Rourus est un livre qui corresponde à un période des crises, à un période caotique, à un changement du cycle de mait... et ont un autre point en plus, une situation particulière, cioè quella di essere anche questo un libro che è partito in una direzione o che io pensavo muoversi in una determinata direzione, forse in modo un po' vago e forse anche presuntuoso e che ha finito per diventare un libro completamente diverso. Io ecco pensavo così di scrivere un libro tutto sommato sereno e piacevole sullo yoga ed è diventato un libro molto meno sereno e piacevole, ma spero comunque toccante, commovente, umano, in cui anche se naturalmente prende le mosse da una mia esperienza, spero che i lettori o quantomeno alcuni lettori e lettrici possano ritrovarsi a partire dalla loro esperienza e non è necessario praticare lo yoga per farlo. Beh io non pratico yoga, addirittura ho sempre pensato che lo yoga fosse qualcosa per extraterrestri, nel senso che vedevo questo lavoro sulla respirazione sul corpo e io non potevo immaginare che producesse questi effetti sull'anima. Poi leggendo yoga ho capito che lo yoga è qualcosa che ha a che fare con la misura della vita e anche con la misura della morte in qualche modo. Credo sia un libro, correggimi se sbaglio, che sia una sorta di amuleto contro la morte. A un certo punto tu, qui dentro ci sono degli amori finiti che non vengono citati, c'è la morte del tuo editore, c'è la tua morte, perché tu dichiari che sei stato ricoverato in un reparto di psichiatria per essere curato da un disturbo bipolare, ti hanno sottoposto all'elettroshock, quindi c'è una sorta di addio alla vita e di ritorno alla vita. In qualche modo sei morto con questo libro. C'è un libro che è un libro che è questione della morte e c'è un libro che è questione della vita. Dispuestra qui è il libro sul male, diciamo che... d'aspiration, a la sérénità, a qualcosa di un po' contemplativo, a una forma di prendere un po' di recul per rapporto a sa vita, a ses passions, a ses misères. C'est un libro sur le contraire, c'est-à-dire sur les gouffres, sur notre misère psychique et affective, qui est la même pour tous, ça prend des visages différents, mais c'est la même absolument pour tous. Et le livre essaye de faire tenir ces deux choses ensemble, de même que, tu peux dire, c'est un peu emphatique de dire ça, mais effectivement, la vie, la mort, la joie, la détresse, l'équilibre et ce déséquilibre profond qui est la folie. Et assez curieusement, puisqu'il est question de folie, qu'il est question à un moment d'une longue hospitalisation dans un hôpital psychiatrique et du diagnostic qui a été posé à un moment me concernant de troubles bipolaires. Et le trouble bipolaire, c'est un trouble psychiatrique tout à fait répertorié, mais qui dans le livre se retrouve à être en fait une espèce de métaphore perpétuelle, c'est-à-dire au tué soit dans cette espèce d'exaltation de l'état qu'on peut qualifier de maniaque, soit dans l'état de dépression, du mât, du gouffre, de l'abîme. Et au fond, d'une certaine manière, cette histoire de bipolarité est devenue la métaphore du livre, enfin est devenue ce dont il est question tout le temps là-dedans, sous des formes différentes. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'origine, je voulais vraiment faire un livre sur le yoga, donc sur cette aspiration à la sérénité. Et je crois qu'en prenant en compte tout autre chose, disons l'autre pôle de l'expérience humaine, d'une certaine manière, c'est davantage un livre sur le yoga. Qu'un livre sur le yoga qui serait entièrement du côté de la sérénité, ça serait un livre de développement personnel, ce qui ne m'intéresse pas. Alors que si tu essaies de tenir les deux pôles de notre expérience, tu te rapproches du yoga. Tu sais, l'origine, l'étymologie contestée, mais que j'aime bien du mot yoga, leur attache au mot sanscrit qui désignerait le joug, je ne sais pas comment on dit. Sous lequel on a-t-elle deux chevaux, deux buffles, chacun veut partir dans une direction différente, ils veulent partir chacun à l'opposé, et la visée du yoga, c'est de les faire marcher ensemble. Et la visée du yoga, c'est de faire marcher ensemble le corps et le mental, mais aussi bien nos aspirations vers le haut, notre attraction vers le bas. Donc, comment dire, un livre sur le yoga qui serait du côté uniquement de la sérénité, c'est du yoga avec un seul cheval. Le yoga, c'est intéressant avec les deux chevaux. Sinon, ce n'est pas du yoga. La dichotomie. Voilà, oui, mais il faut toujours essayer de tenir les deux bouts de la chaîne. Donc, finalement, en racontant une hospitalisation psychiatrique, en racontant des choses comme ça, j'ai l'impression d'avoir fait un meilleur livre sur le yoga que si j'avais fait un livre uniquement sur des exercices de respiration et une aspiration à la sérénité. Oui, d'un certain point de vue, c'est vrai. C'est un livre qui se trata de la mort et donc aussi de la vie. Mais, disons, la chose vraie est que c'est un livre qui est sur le yoga et donc sur une certaine aspiration à la sérénité, à la contemplation, à la capacité aussi de prendre la distance rispetto à la vraie vie, à la vraie passion, à la vraie miserie. Ma è anche un livre che si confronta con l'abisto, con le nostre miserie psichiche e affettive, che appunto possono assumere forme diverse, ma che di fatto ci accumulano tutti. Ed è un livre che tenta di mettere insieme queste due cose, in modo forse un po' enfatico potremmo dire che è un livre che è sulla vita e sulla morte, sulla gioia e sulla disperazione, sull'equilibrio e su questa forma di disequilibrio assoluto che è la follia. E la cosa interessante è che appunto considerando il tema della follia, il ricovero che ho attraversato e la diagnosi che è arrivata a un certo punto di disturbo bipolare, e il disturbo bipolare è un disturbo documentato e che si conosce, ma che è arrivato in qualche modo a rappresentare una sorta di metafora perpetua, sia perché appunto sono questi i due momenti che si alternano nel disturbo bipolare, sia quindi dell'esaltazione, sia della depressione e dell'abisto. E questa sindrome bipolare, il disturbo bipolare, in qualche modo diventa la metafora del libro stesso, che tratta appunto diverse forme di questo libro, di questo disturbo, scusate. La cosa anche interessante è che io appunto, come detto, volevo all'inizio scrivere un libro sullo yoga e sull'aspirazione alla serenità, ma credo che tutto sommato, essendomi mosso all'estremo, al polo estremo di questa esperienza, sono arrivato paradossalmente a scrivere un libro che tratta ancora di più sullo yoga. Se fosse stato solamente un libro sullo yoga, alla fine sarebbe diventato un libro di self-help o di sviluppo personale, mentre unendo e mettendo insieme questi due poli si si avvicina di più allo yoga, l'etimologia della parola yoga, che condivido e non condivido, ma insomma che utilizzo e non utilizzo, risale alla parola sanscrita che significa gioco e indica il fatto di dover tenere insieme due bufali o due cavalli che vogliono andare in due direzioni opposte. Lo yoga è il tentativo di fare camminare insieme il corpo e la mente, le nostre aspirazioni verso l'alto e verso il basso, e quindi un libro che parlasse dello yoga solo in quanto aspirazione alla serenità sarebbe come appunto uno yoga che riesce a seguire o a controllare uno solo di questi due cavalli. Se così fosse appunto non sarebbe un libro sullo yoga che invece proprio deve tenere questi due poli estremi insieme. Quindi attraverso anche l'esperienza del ricovero in ospedale e psichiatrico ritengo di aver scritto un libro migliore sullo yoga che se mi fossi solamente concentrato su gli aspetti di aspirazione alla serenità. Assolutamente perché... Justo, io direi una cosa, io non parlo l'italiano, ma io lo comprendo abbastanza per essere stupendato della qualità e della precisione della vostra traduzione. È bravissima, Sonia. Io vorrei cercare di fare delle risposte un tutto un po' più corti. Sonia è veramente brava, sì, molto. Grazie. Perfetta. È una questione secondo te, Manuel, riuscire ad arrivare in questi abissi. È una questione di narcisismo o di coraggio? O di entrambi? Ecoute, la question di narcisismo... C'è... Je crois che... Quando vuole essere raccontare qualcosa di vita, di l'expérience umano, di essere un ècrivano, di essere un essere umano, c'è un lapsus che ho fatto di quello che c'è di essere un essere umano abbiamo un esempio sotto la mano che è il n'y'a che so ma il n'y'a so e ciò mi sembrava legittimo di partire di so quando si 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 e quindi se si l'on appelle narcisismo tourner la caméra verso soi ecco l'accepterà il reproche del narcisismo non mi poso problema e al fondo malgrè tutto j'espère en parlare di moi parler anche dei altri e ai altri io penso che l'expérience singuliera di chacun se si è racontata e connessi e rinvoi a celle dei altri on è tutti c'è on n'a tutti le même misere ma on è on a tutti il nostro lot di misere e questa espace di tension perpettuale tra celui che vogliono essere e quello che che condamnato a essere malvamente c'è nostra c'è nostra esperienza a tutti ma sì questa questione del narcisismo sai io credo che nel voler raccontare la vita l'esperienza umana che cosa significa essere un essere umano il campione che abbiamo a disposizione in fondo siamo noi stessi non solamente ma mi sembra tutto sommato un campione legittimo a cui attingere quando si scrive in fondo la telecamera può essere girata o verso di sé o verso l'esterno io tento di fare entrambe le cose alternando e se il narcisismo è il momento in cui la telecamera viene girata verso di sé accetto il rimprovero senza nessun problema e spero tuttavia che nel momento in cui sto parlando di me parlo anche degli altri e parlo anche agli altri se il racconto è connesso all'esperienza degli altri si entra appunto in comunicazione non abbiamo le stesse miserie la stessa disperazione ma comunque ognuno di noi ha il suo carico di miseria da portare e questa tensione tra ciò che vogliamo essere e ciò che siamo condannati ad essere è una tensione condivisa dell'esperienza di tutti gli esseri umani secondo me andiamo più verso il coraggio di guardarci piuttosto che sul narcisismo lo dice la parola stessa vipassana che è un po' il mantra di tutto il libro cioè vedere le cose come sono lo yoga insegna a vedere le cose come sono attraverso la respirazione e attraverso un mondo che non so sono in grado di descrivere adesso ma io credo che il tuo lavoro e il lavoro fatto su yoga sia rappresentato da una citazione meravigliosa di Lenin che è lavorare con il materiale a disposizione quindi non c'entra più narcisismo coraggio non c'entra più niente uno ha questo corredo e uno guarda quello che ha che è un po' come osservare la propria respirazione espirare ispirare solo che in questo caso tu hai mostrato che il tuo materiale a disposizione era un abisso ma non solo un abisso tu vois on disait tutt'al'heure je voyais Tania qui disait on traduit essayez de faire du yoga que ce soit dans la bon dans la pratica fisique du yoga mais en écrivant mais en vivant c'est essayez d'aller vers l'intérieur vers l'extérieur vers le haut vers le bas vers la gauche vers la droite l'inspiration l'expiration la joie la tristesse la sérénité la folie le malheur le bon si tu veux tout ce qui fait notre expérience si tu et tout ça c'est effectivement pour chacun ça prend des visages différents et c'est pour ça je suis content que tu aimes bien la phrase de Lénine qui dit il faut travailler avec le matériel existant il ne faut pas faire semblant il ne faut pas essayer de travailler avec autre chose il faut travailler avec ce qu'on a sous la main ce qu'on a sous la main c'est soi-même c'est sa propre expérience de soi d'autrui du monde et c'est aussi un enseignement du yoga de ne pas la juger de ne pas trouver qu'elle est elle est ce qu'elle est elle est ce qu'elle est autant essayer de la regarder attentivement autant essayer de travailler avec autant essayer de changer mais à partir de ça pas à partir d'une fiction donc ouais c'est ça alors tu vois j'ai une au fond je parle du yoga d'une façon enfin j'utilise le mot yoga d'une façon absolument extensive mais je pense avoir raison en disant ça beaucoup plus que si tu considères le yoga uniquement comme une pratique parasportive même si c'est tout à fait ça aussi c'est une très bonne pratique de santé mais c'est quand même quelque chose de beaucoup 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 plus vaste tu pratiques encore yoga adesso oui bien sûr tous les jours tous les jours oui 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 tous les jours la pratiques physiques continuant à vivre à scriver et à chercher de mettre ensemble un peu comme nous nous avons avant le monde esternes le monde interiore l'alto le basse l'ispiration l'espiration la joie la tristesse l'équilibre et la folie tout que l'on appunto dans ses formes et ses visites plus diverses appartiennent à notre expérience m'aiment 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 cette phrase de Lenin parce que c'est exactement comme ça non c'est autre à quoi travailler avec l'expérience que nous avons à disposition que nous avons et ce que nous avons est la notre expérience appunto de nous-mêmes des autres du monde et l'autre chose que nous enseigne le yoga est de ne pas de ne pas un giudizio un regard giudicante sur la notre expérience est c'est ce que nous avons regardé nous avons de ne pas de partir de cette expérience je puis la parole yoga comme vous avez vu aussi dans sa accéder plus ampia mais je pense être au-dessus et ne pas limité l'accéder de cette parole seulement à une pratique par sportive ce qui de fait est mais c'est une parole qui offre un concept beaucoup plus ampio je disais une chose tu sais quand Alexandre le Grand est arrivé jusqu'en Inde semble-t-il les soldats d'Alexandre le Grand Plutarque nous dit que les soldats ont été extrêmement surpris de voir ce qu'ils appelaient des gymnosophistes et des gymnosophistes c'est des mecs qui sont supposés atteindre la sagesse à travers des exercices de gymnastique c'est-à-dire que ce qu'il décrit c'est ce qu'on appelait c'est des yogis Plutarque te parle te décrit exactement ce qu'ils des yogis si si riferisce quand Alexandre le Grand arrive in India Plutarque riferisce des soldats extrêmement surpris nel voir arrivare des gymnosophistes que sont esattement ces soldats qui pratiquent la saggez attraverso l'esercizio fisico beh è molto bello perché ho chiesto se stai facendo ancora yoga perché è un libro molto quotidiano cioè ti fa capire la resistenza quotidiana che ciascuno di noi deve affrontare nel superare e nel far rientrare i propri demoni all'interno dell'anima ed è un libro che non è solamente sullo yoga lo yoga è soprattutto la prima parte del filo conduttore poi ci spostiamo su quello che è in qualche maniera la difficoltà della crisi psichiatrica tua a parigi poi andiamo in grecia e poi torniamo in una sorta di no giudizio ma di constatazione di quello che la vita è ora io ho cercato dentro di me secondo le letture quello che è un sintomo di questo libro cioè che cosa in verità quello che secondo me lascia è la tenerezza io credo che Emmanuel Carrer che abbia fatto una letteratura che arrivi a quel punto di tenerezza che poi alla fine è un punto di rottura non ci sia mai stato io so che il tuo libro preferito è vite che non sono la mia di quelle che hai scritto però yoga ha un punto di tenerezza superiore perché è rivolto verso se stesso voglio sapere se la parola tenerezza si sposa con questo libro oppure no secondo te oh che cosa gentile a dire no non è gentile è constatazione no no ma 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 c'è un lecture tellement bien sûr que je suis enfin ça me ça me fait immensément plaisir qu'on puisse dire ça de ce livre parce que c'est vrai que c'est un livre très déchiré très chaotique très mais que si le sentiment qui peut laisser celui-là celui d'une espèce de tendresse de bienveillance y compris à l'égard de soi même c'est-à-dire la plus difficile et ben je je peux être heureux que tu pu lire comme ça mais voilà ça me fait plaisir j'espère que c'est vrai c'est gentile que dici que mi commuove molto et mi fa davvero un piacere immenso è un libro che per certi aspetti è molto caotico è pieno di tension ma se può suscitare questo tipo di sentimento come la tenerezza di cui parli tu o anche di benevolenza nei confronti anche di se stessi che è forse il tipo di tenerezza e benevolenza più difficile non può che farmi assolutamente felice questa cosa che dici hai citato a un certo punto è una pagina fondamentale del libro tanto lo yoga ci fa osservare la vita com'è osserviamo il respiro che entra e che esce tanto più la letteratura non deve mentire la letteratura è ciò che è quindi tu racconti la parola giusta è il luogo in cui non si mente allora a un certo punto tu dici che questo in questo libro tutto è importante soprattutto nel contesto che tutto ciò che racconti è reale per quanto ti riguarda e soprattutto deve essere reale nella narrazione e racconti che ha inventato poi dichiari dei personaggi delle piccole parti di personaggi quindi non è forse un libro autobiografico quindi è un libro di finzione in parte cosa ne pensi di questa specie di lotta sarebbe sarebbe un libro autobiografico se tutto fosse vero ma tu hai inventato qualcosa dei personaggi dell'evoluzione di storia e lo dichiari quindi in quello sei vero quando lo dici però hai inventato qualcosa quindi è davvero un libro autobiografico Emanuele e for me è stata una difficoltà vero perché era un personaggio molto importante di mia vita in la periodo che racconti e quindi io dovrei come effacere qualcuno che era molto importante in mia vita e io tiens a dire che io ne diso veramente che delle cose in prenti di respect e di tendere a son egale quindi c'è come che ho mi raccomodato di questa contrazione che io non ne volevo mai arrivare in un altro libro c'è una situazione molto particolare e che mi ha obligato a una specie e io le dico io tiens a che il lectore de sache a una sorta di mensongi par omission e per conseguent a dei accommodament che rilevano di la fiction e che mi hanno conduito anche a modificare un po' dei personaggi ora questa parte di fiction è difficile a evaluito ma fa può essere qualcosa come 5% del libro qualcosa come ma non 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 il faut lavorare con il materiale existente il materiale existente c'è questa contrazione e io penso che elle donne qualche chose di particolare al libro che n'est un po' hybride che n'est pas de toute maniera c'est pas un libro totalement harmonio e equilibré c'est vrai si appunto c'è una cosa particolare che caratterizza questo libro è vero io dico questa cosa che la letteratura è il luogo in cui non si mente non mi riferisco alla letteratura in generale ma al tipo di letteratura che pratico io e che prevede questa sorta di contratto implicito che stringo con il lettore in questo libro e lo dicaro c'è stata mi sono trovata a dover mettere in lato una deroga da questo contratto per delle ragioni che io spiego in modo piuttosto evasivo nel libro ma che sono legati al fatto che la mia ex moglie mi ha detto in modo molto esplicito di non voler apparire in alcun modo nel libro cosa che è stata molto difficile per me essendo lei stata anche un personaggio molto importante nel periodo che racconto in questo libro e ho dovuto mi sono quindi trovato costretto a cancellare questo personaggio di cui ci tengo a dirlo non avevo che sentimenti di rispetto e di tenerezza da esprimere ma ho dovuto farlo è stata una cosa che non mi era mai successa prima e che ho dovuto fare per forza e questo i lettori lo devono sapere lo dichiaro quindi di fatto diciamo mentito per omissione introducendo nel libro una parte di finzione arrivando a modificare alcuni personaggi ora è difficile valutare quale sia la percentuale di finzione e di realtà nel libro diciamo che c'è un 5% di finzione io avrei preferito non averla ma come dicevamo prima bisogna lavorare con il materiale esistente e questa costrizione questo obbligo che ho ricevuto faceva parte del materiale esistente e sicuramente è una caratteristica di questo libro che da questo punto di vista è vero forse non è totalmente equilibrato è come fosse un po' zoppo secondo me non è zoppo è ballerino non so come si può tradurre in francese ballerino però è un tip tap significa che tu c'è un danza potrebbe sì ma là c'è utilizzato in aggettif e c'è potrebbe più proche di bancale che di boite e dipende e sarebbe stato molto interessante aver avuto una videocamera sul tuo viso quando hai saputo che la tua ex moglie ti ha detto che non potevi usare la sua presenza allora lì è interessante perché quel cervello che tu ti sei ritrovata è un po' il cervello anche di chi deve inventare o mettendo che poi è un cervello che tu usavi tanto nella tua prima fase di letteratura che era quella un po' dei ritratti giornalistici che facevi un po' dei reportage che era un po' quella della settimana bianca per esempio di Buffy quindi qualcosa del tuo passato narrativo è entrato grazie a quell'omissione e ha creato un carrer più completo più in balia più naufrago ed è esattamente lo spirito del libro quindi la tua ex moglie che ti ha detto tu a me qui non mi ci ficchi dentro ti ha portato e ti ha costretto a essere yoga a tutti gli effetti per esempio io non ho mai ho mai ho mai di tentazione di me dire finalmente una version d'avanti di questo libro che corrispondi a questo che aveva scritto originellemente io non ho mai non ho mai io non ho mai io non ho mai pubblico questa specie di director's cut tu vois che era perché perché bianca ho io l'impression che questa specie di blan come questa di absence che è molto centrale in il libro che che ho d'abord considerato come un défaut finalmente ho l'impression che c'è la forma la più justa di parlare della fin d'un amore di parlare di due d'un amore che c'è somma tutta una forma assez justa e e e e e che c'è c'è bene che ma femme mi domanda sa peut-être che c'è bien bon je dis sa peut-être parce que ça m'arrange aussi mais peut-être réellement c'est bien ancora una volta posso solo ringraziarti di questa tua lettura però è vero io spero di essere riuscito in qualche modo a trarre il meglio da una situazione che all'inizio non condividevo e non mi faceva piacere e non sono mai tentato per esempio perché esiste naturalmente una versione originale la prima versione che avevo che avevo scritto e non sono mai tentato dall'idea di pubblicare questo director's cut del libro perché tutto sommato stranamente ho l'impressione che questa assenza che occupa una parte molto importante del libro e che inizialmente appunto concepivo come un difetto in realtà mi chiedo se non sia invece il modo più giusto di parlare della fine di un amore dell'elaborazione della fine di un amore quindi forse è stato un bene forse è stato giusto che la mia ex moglie mi chiedesse di fare così forse lo dico perché mi fa comodo ma forse in realtà è stato davvero un bene beh ci sono tre fantasmi molto grossi in questo libro uno è la tua ex moglie uno è il tuo editore che è morto in un incidente stradale e uno è Parigi Parigi è una città di tenebra in questo in questo libro perché diventa una città dove tu hai sofferto all'ospedale Sant'Anne nel reparto psichiatrico dove tu hai perso i legami e dove in qualche modo vai malamente in motorino cioè tu in scooter vai molto male sei una persona che frena va avanti e questo qui è il moto sussultorio umano che tu hai che poi il bipolarismo dichiarato freni giri a destra io non voglio mai andare sullo scooter con Emmanuel Carrère sappiatelo lo sanno tutti in Francia però questo è una metafora per dire che yoga è un libro di una persona che guida a vista molto spesso e lo fa capire che anche il lettore è autorizzato a guidare a vista quindi non ci dobbiamo davvero vergognare delle misere che abbiamo ti posso chiedere se è anche un libro sull'essere orfano perché mi sembra che la perdita del tuo editore sia stato davvero un'orfananza per te in qualche modo sì è un'orfananza c'è un'orfananza per me di lui e che ha disparito c'era la forma in cui gli occhi brillano quando gli apporto un manuscrito, io savavo c'era una specie di certitudine di essere amato, di essere che era per lui la cosa la più importante del mondo e che io gli allo gli dare in l'après-midi e che gli allo leggere durante la mattina e che gli allo mi appello a 3 ore del mattino e poi c'era un di miei migliori amici c'era una vera grande perte e partagere io penso con tutti gli autori della mezza sì, assolutamente ma è appunto uno stato che condivido con tutti gli altri autori e autrici della casa editrice, che continuo a essere la mia casa editrice e continuo a pubblicare ma ecco Paul Ochaikovsky-Loros era una persona con cui ho condiviso tutta la vita professionale l'abbiamo fatta insieme io ho iniziato a pubblicare con P.O.L. nel 1984 non ho mai lasciato questa casa editrice che è una casa editrice molto piccola in cui lavorano cinque persone che rappresenta tutta la mia vita da scrittore inoltre è un privilegio questa peraltro è una cosa che non riguarda ad Elfie ma in generale nelle case editrici c'è un turnover altissimo gente che va e viene in continuazione ecco da P.O.L. c'è una grande continuità che rappresenta un grande privilegio Paul poi non era un editore diciamo direttivo autoritario che diceva cambia qui o cambialà la sua qualità più preziosa essenziale per me come anche dico nel libro era il modo in cui gli brillavano gli occhi nel momento in cui tu gli portavi il manoscritto questa certezza che il tuo libro fosse atteso la certezza di essere voluto bene e che davvero fosse una cosa importante per lui io gli portavo il manoscritto nel pomeriggio e sapevo che lui lo avrebbe letto la notte e che mi avrebbe chiamato alle tre della mattina per dirmi il suo parere eravamo migliori amici ed è quindi una perdita grandissima che condivido con tutti gli altri autori autrici della casa editrice mi piace pensare che abbia ragione Zebald quando disse che l'unico modo della nostra menzogna dove noi possiamo davvero mentire in quello che scriviamo è la scrittura e tutti i tuoi libri hanno volano volano significa detto in italiano che lì cominci e tu ti ritrovi nel mezzo del guade non esci più fin quando non l'hai finito allora lì secondo me tu menti e per menzogna intendo il lavorire si vede ma produce una sorta di velocità di lettura della prosa semplice quando in verità sotto c'è un'ossessione di grande artigianato ed è l'unico modo in cui tu metti cioè tu secondo me cambi virgole punti cambi parole in maniera ossessiva fino a quando non cadi dalla sedia posso sapere se è questo il tuo metodo c'è una domanda di artisan c'è una domanda professionale e quindi io l'accepcio tu vois come sì ça marche avec plaisir écoute c'è sì c'è veramente una cosa che io recherchiamo che sia che 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 question de naturel de fluidità de façon dont les choses s'enchaînent ma surtout ce qui est dans la mesure où c'est un livre qui essaye d'attraper énormément de choses de l'expérience de ne jamais dire non ça ça fait pas partie du livre je me dis jamais non ça c'est hors sujet comme on dit non rien n'est hors sujet tout rentre dans le livre mais il faut que tout rentre dans livre comme ça rentre dans notre pensée c'est à dire avec une espèce de souplesse de circulation à la fois inattendue naturelle tout ça mais ça ce travail artisanal dont tu parles c'est ce que j'aime le mieux autant quelquefois l'expérience dont il est question dans toutes les questions c'est difficile d'abord de la vivre et puis ensuite de l'essayer de lui donner forme mais ensuite cette espèce de travail de la de la langue du du mouvement intérieur de la phrase tout ça c'est le plus grand plaisir et alors j'ai eu alors là puisque on parle vraiment en technique tu sais c'est c'est c'était je crois que c'est c'était Philippe Roth qui je sais plus avec qui il y avait un livre qui s'appelait parlons boulot quoi parlons de moi il y a eu une chose nouvelle pour moi dans ce livre c'est une innovation technique qui est inattendue qui consiste à diviser le livre dans des petits chapitres avec des titres des petites unités et je me suis aperçu que j'adorais ça que je trouvais ça très excitant amusant de trouver ces titres ça facilite le montage aussi tu vois c'est comme tu as des petits tu peux se postar c'est une espèce de Rubik's Cube mais ça tu vois il peut y avoir dans la encore une fois dans la composition d'un livre un tas de choses qui sont douloureuses difficiles mais cet agencement ce travail d'agencement de formulation tout ça c'est vraiment ce qui est de l'ordre du plaisir artisanal et ce plaisir est immense c'est une des raisons pour lesquelles au fond faire ça faire un truc qui par ailleurs est aussi chiant aussi dur mais ça c'est la récompense de pouvoir faire ce travail d'agencement là si questo est un commento la professionista d'artigiano que encore une fois accetto con piacere si assolutamente je lavoro pour pour c'est de 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 concatenar de 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 c'est un est un un livre in cui tento de prender plus choses possible non esiste un argumento que non appartiene all'argomento de 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 c'est une circulaire nature mais quelque fois en attesa non scontata de tous les éléments et ce lavoro di cui tu parli è assolutamente il lavoro che io preferisco scrivere sia per l'esperienza che ti vive e a cui poi ti dà forma può essere difficile ma poi invece questo lavoro sulla lingua sul movimento interno della frase è un lavoro che dà un piacere immenso e visto che stiamo parlando per tecnicismi c'era un libro un racconto di Philip Roth in cui diceva parliamo di lavoro ed è quello che stiamo facendo c'è in yoga una novità una piccola innovazione di tecnica in attesa che è stata questa divisione in piccoli capitoli in piccole unità ed è una cosa che mi ha divertito moltissimo che ho trovato davvero appunto entusiasmante divertente che facilita anche il lavoro di montaggio con dei pezzi che si possono spostare organizzare un po' come nel tubo di rubi che questa appunto come torno a dire questo lavoro di composizione che può essere difficile e doloroso quando poi invece sfocia nel lavoro di organizzazione di montaggio di articolazione del libro procura davvero un piacere immenso ed è forse anche uno dei motivi per cui si affronta una cosa che può essere così difficile e dolorosa per certi aspetti a poi invece la ricompensa di questo lavoro di organizzazione degli elementi che le succede cosa si trova in yoga cosa c'è dentro yoga c'è la vita e c'è anche la vita brutta c'è la vita che è difficile secondo me c'è anche una specie di vita obliqua cioè quella in cui una persona pensa se dichiarare la propria fragilità o non dichiararla e tu l'hai dichiarata ci sono degli episodi di elettroshock ci sono delle furie familiari ma c'è anche la leggerezza della vita piccola quella bella quella quando si incontrano dei ragazzi e si passa del tempo quando si regala un telefonino e si vorrebbe regalare un telefonino e lo si dimentica in un cassetto c'è l'invidia per Michelle Welbeck c'è l'amore per Dino Buzzati c'è Simon Weil ci sono moltissime questioni ma c'è soprattutto anche un mondo che tiene insieme tutti i libri di Emanuel Carrère quello che va da Buffy all'amico quello che va soprattutto nell'amicizia verso la verità e arriva fino all'imono e alla vita che non sono la mia l'ultima domanda Emanuel è se yoga ti rappresenta ancora anche dopo che l'hai finito cioè se yoga è ancora la tua vita presente o è una vita passata c'è 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 vraiment un livre qui qui prend en charge quelques années d'une période de encore une fois chaotique de transition entre et et cette période là je dirais qu'elle est qu'elle a pris fin quand même et que donc voilà actuellement c'est c'est autre chose non c'est une période c'est une période close même si énormément des choses qui se sont passées dans cette période close bien sûr sont des constantes de ma vie psychique affective tout ça mais c'est un cycle différent quoi ma si questo questo libro rende in carico si occupa di anni caotici di di transizione ed è un periodo finito al momento le cose sono sono diverse un periodo appunto determinato e finito anche se alcune delle cose che sono capitase in questo periodo rappresentano comunque delle costanze della mia vita affettiva e psittica ma corrispondono a un ciclo molto diverso je dirais heureusement heureusement et aggiungo per fortuna grazie Manuel merci beaucoup Marco c'est toujours un plaisir merci vraiment de cette lecture si attentive et chaleureuse merci Sonia c'était un plaisir de vous entendre d'être tellement sûr che ce que je disais même si ce n'est pas formidablement intéressant en tout cas c'était absolument merveilleusement traduit merci grazie yoga emmanuel carrer c'est 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 a tutti